Per chi è stanco dei soliti party di Halloween tra zucche e ragnatele e al dolcetto preferisce la patatina, il posto ideale è il carosello sexy disco. Per la festa di mercoledì 31 ottobre, sexy streghe in lingerie popoleranno il carosello in una lunga notte di belle visioni e tutte saranno affamate di carne umana. Info 051 500 70 500, ingresso, più consumazione, più spettacoli, solo 15 euro. Carosello sexy disco, Casalecchio di Reno Bologna, via Bazzanese 95 terzo. Il carosello c'è anche ad Halloween. Per chi è stanco dei soliti party di Halloween tra zucche e ragnatele e al dolcetto preferisce la patatina, il posto ideale è il carosello sexy disco. Per la festa di mercoledì 31 ottobre, sexy streghe in lingerie popoleranno il carosello in una lunga notte di belle visioni e tutte saranno affamate di carne umana. Info 051 500 70 500, ingresso, più consumazione, più spettacoli, solo 15 euro. Carosello sexy disco, Casalecchio di Reno Bologna, via Bazzanese 95 terzo. Il carosello c'è anche ad Halloween. Per chi è stanco dei soliti party di Halloween tra zucche e ragnatele e al dolcetto preferisce la patatina, il posto ideale è il carosello sexy disco. Per la festa di mercoledì 31 ottobre, sexy streghe in lingerie popoleranno il carosello in una lunga notte di belle visioni e tutte saranno affamate di carne umana. Info 051 500 70 500, ingresso, più consumazione, più spettacoli, solo 15 euro. Carosello sexy disco, Casalecchio di Reno Bologna, via Bazzanese 95 terzo. Il carosello c'è anche ad Halloween. Grazie a tutti.